E il coltellino di questa settimana è il Fox 0 2.0 E lo so, 0, 2.0, ma perché il Fox 0 si chiama 2.0? Beh, c'era una volta il Fox 0, che adesso è cresciuto e finalmente è diventata la seconda versione più accattivante e sempre di gran qualità Il nuovo 0, chiamiamolo così, che facciamo meno confusione è l'evoluzione dell'iconico Fox 0 che già ci aveva dato delle belle soddisfazioni come coltellino poco impegnativo ma estremamente ispirato Ci sono tanti riferimenti agli ambienti difficili, quelli amati da noi avventurieri Le colorazioni, qui vedete la Oddy Green, ma c'è anche in un bellissimo desert che state vedendo a schermo, è nero Sono tutte bellissime perché la manicatura è lavorata con un motivo che richiama le dune del deserto Spero riusciate ad apprezzarlo, a me piace molto, funziona bene come ergonomia, che è la cosa più importante Però abbellisce e arricchisce tanto anche il progetto La lama è in acciaio Beckett ed ha un profilo spur point, a foglia quasi Vedete come è abbastanza particolare questa geometria Molto bella la curvatura che ci permette di lavorare sul piatto o come dobbiamo E allo stesso tempo il dorso che va incontro alla punta Consentendoci anche di perforare se ne abbiamo la necessità Insomma lo Zero è un coltello che ti metti in tasca e puoi usare per tantissime occasioni Un coltello leggero, poco impegnativo, molto piacevole da impugnare La mia mano vedete non riesce a impugnarlo tutto Rimane fuori il mignolo ma mi sta bene perché lo raggiungo in questo modo E alla fine il coltello rimane molto solido in mano L'apertura è con il foro, lo vedete benissimo Lo apro con una mano sola, anche con dei guanti perché è un'apertura molto generosa E il blocco è un backlock di questo tipo, abbastanza alto Da non interferire durante la lavorazione, da non interferire nell'impugnatura Mi lascia comunque il coltello estremamente solido in mano anche lavorandoci Questo anche grazie alla scelta dei materiali, nylon rinforzato con fibra di vetro per il manico E la texture, questa è duna del deserto, si chiama Anso Texture Proprio perché Anso, Jens Anso, è il designer di questa lama A disposizione abbiamo una clip in acciaio armonico che è reversibile Quindi posso montarlo dall'altro lato se sono mancino e voglio portarlo nella tasca sinistra L'apertura e la chiusura sono per natura ambidestre Ora io non sono capace a farlo con la sinistra, non voglio farmi male ma funziona benissimo Il designer dicevamo è Jens Anso e dice una cosa interessante che trovate anche su Backpack.it Ve lo cito un po' Non creare qualcosa se non è necessaria è utile Ma se è sia necessaria che è utile Allora non esitare a renderla bella Eh, questi designer che ci fanno godere con queste filosofie Beh, a me piace molto Un coltellino economico, semplice, leggero Uno sfizio che uno si può togliere E può anche averlo con la spedizione gratuita su Backpack.it Vediamo anche le caratteristiche tecniche però Perché è importante come in tutti i coltelli La lunghezza della lama è di 70 mm, 7 cm E la lunghezza totale è di 16,5 cm Spessore della lama 3 mm Non serve di più in un EDC come di questo tipo Ci sta benissimo E il peso è di soli 56 grammi Il profilo è un po' a foglia, un po' spare point Sicuramente spare point da questa parte Però vedete che si rialza anche un po' E fa un po' la foglia Mi piace, mi piace molto Acciaio Bagot temperato tra i 56 e i 58 HRC La finitura varia un po' a seconda dei modelli Date un'occhiata a quelli disponibili su Backpack E tutta la viteria è in acciaio inox Così come anche il distanziale che potete vedere qui in mezzo Distanziale serve a tenere il manico La parte finale dell'impugnatura distanziata Ed è in acciaio inox Se ti piacciono i chiudibili Dai un'occhiata a tutti quelli disponibili su Backpack.it E soprattutto iscriviti al canale Schiaccia la campanella Perché ne vediamo di nuovi ogni settimana Ma ci vediamo in giro anche sugli altri social Alla prossima!